Musica Crisi idrica ancora non risolta in Consiglio regionale, dibattito sulla situazione delle falde acquifere in Toscana. Aeroporto di Pisa tra gli scali strategici, la richiesta del Partito Democratico approvata all'unanimità dal Consiglio. Buonasera e ben ritrovati a Monitor Consiglio. Si è parlato della crisi idrica in Toscana nell'ultima seduta del Consiglio regionale. Nella sua comunicazione l'assessore all'ambiente Monia Monni ha dichiarato che la crisi è ancora in atto e che ad oggi il ripristino degli stock di riserva di risorsa idrica superficiale sotterranea necessaria a scongiurare il ripetersi di una situazione di crisi nel 2023 sia solo in una fase iniziale e il suo completamento possa essere garantito solo con piogge superiori alla media fino a tutto il maggio del 2023. L'assessore ha aggiunto che a inizio ottobre la Regione ha approvato le schede progettuali di oltre 100 interventi complessivi proprio per combattere la crisi idrica. Sentiamo le interviste che abbiamo realizzato. La crisi idrica, al pari della crisi energetica, è una tra le grandi emergenze che siamo chiamati a gestire in questa fase legislativa del Governo della Regione Toscana. Bene le risorse arrivate dal Governo precedente, da Draghi, per cercare di risolvere in termini infrastrutturali un gap che esiste. Serve fare degli invasi, serve ovviamente fare degli interventi, serve fare le opere pubbliche e credo che sia positivo il fatto che in alcuni casi si sia già avviata la fase di progettazione rispetto alla realizzazione di alcuni invasi che nei territori possono dare delle risposte ma nel contempo serve anche finanziare interventi di natura privata a favore per esempio delle aziende agricole per cercare di dare risposte autonome e nel contempo aumentare gli interventi da parte dei consorsi e della Regione stessa per cercare di rendere la nostra Regione, di fare degli invasi e delle infrastrutture in grado di rispondere in termini infrastrutturali a quella che purtroppo è un evidente cambio climatico con il quale dovremo convivere nei prossimi anni. La siccità ha caratterizzato quest'anno in tutta Italia, la Toscana forse un po' meno degli altri perché noi abbiamo Bilancino, quest'opera pubblica realizzata grazie alla Regione che ha una funzione importantissima nella Valle dell'Arno per il contenimento dell'acqua d'estate e rilascio graduale, per il trattenimento dell'acqua ai fini di prevenzione dalle alluvioni nel periodo invernale con Bilancino 70 milioni di metri cubi, Bonte d'Oglio in Valtiberina 135 milioni di metri cubi e la prospettiva di realizzare altri laghi, laghetti, invasi. Faremo una legge specifica proprio per favorire la costruzione di quello che devono essere i serbatoi che contenendo l'acqua ci consentono ad affrontare i periodi di siccità. Del resto i cambiamenti climatici sono un'evidenza così forte nel nostro tempo e oggi ho relazionato proprio sul fatto che abbiamo ottenuto 4 milioni e 2 dal governo nella dichiarazione in stato di siccità all'inizio di agosto. Questo è stato un risultato positivo, ricordo sui giornali veniva ma come mai nella pianura padana cinque regioni hanno ottenuto risorse nel centro Italia, non è avvenuto così. Ecco, nelle settimane successive in realtà quello che sono state le esigenze che abbiamo documentato e che portarono anche in Toscana lo stato di calamità da un punto di vista regionale e poi la richiesta dello stato di emergenza a livello nazionale hanno trovato soddisfazione. Ma contemporaneamente appunto le modifiche di legge, la previsione puntuale di interventi che portino laghi, laghetti, invasi a calmierare una situazione che altrimenti con quello che sono le modifiche del clima può creare problemi tutti gli anni. Oggi con la comunicazione della Giunta e il dibattito che ne è seguito innanzitutto abbiamo potuto verificare come al netto delle enunciazioni sono già state immesse in campo una serie di interventi. Il finanziamento che il governo Draghi ha dato alla Toscana per la gestione dell'emergenza è già in fase di attuazione per sbloccare tutta una serie di opere però noi pensiamo che al netto dell'emergenza di queste settimane noi col tema della siccità purtroppo ci dovremo fare i conti per molto tempo ed è per questo che come PD abbiamo chiesto un'attenzione particolare alla questione risorsa acqua in rapporto all'agricoltura. L'agricoltura ha chiaramente come fondamento la risorsa idrica ma allo stesso tempo mettere in campo una serie di misure per efficientare l'utilizzo della risorsa, gli invasi e tutta una serie di altre misure per evitare che ci sia lo spreco di questa risorsa sempre più preziosa diventa fondamentale. Ecco perché abbiamo chiesto anche all'assessore Saccardi di orientare le risorse del piano di sviluppo rurale che sono in previsione per i prossimi anni molto per sostenere la realizzazione di opere che permettano alla nostra agricoltura di avere acqua e di non sprecarla in nessun modo. Allo stesso tempo abbiamo ribadito come in questo 2022 abbiamo sostenuto la progettazione dei consorsi di bonifica per fare canali di irrigazione. Noi l'abbiamo solo in alcune zone della Toscana, la Toscana del Sud ma su questo dobbiamo continuare a investire. Finalmente siamo riusciti a parlare dell'emergenza idrica che sembra alle spalle ma in realtà incombe già sul 2023. Infatti i livelli di accumulo che l'autorità idrica toscana ci dice sono stati raggiunti ad oggi e si raggiungeranno nella prossima primavera sono molto bassi e quindi rischiamo anche per il 2023 una situazione difficile. La regione toscana chiese l'emergenza nazionale che è stata dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del primo di settembre. Sono arrivati 4,3 milioni di euro che in realtà però andranno per opere più o meno ordinarie dalle autobotti al miglioramento e al recupero di alcuni pozzi di attingimento. Senza attaccare invece alcune questioni fondamentali nell'approvvigionamento idrico e anche a scopo agricolo e industriale dell'acqua ovvero sia da una parte lottare agli sprechi, alla perdita che in Toscana monta a 178 milioni di metri cubi all'anno circa il recupero ad oggi è arrivato a 38 milioni di queste perdite. Dall'altra parte irrobustire pesantemente il sistema di invasi medi, piccoli ma soprattutto grandi che affianchino Montedoglio e Bilancino e in particolar modo da questo punto di vista abbiamo rilanciato l'idea della grande diga sul Merse e potrebbe dare decine di milioni di metri cubi di acqua soprattutto alla Toscana del Sud, idea su cui il Presidente Gianni ha dato disponibilità fermo restando la necessità di un confronto con gli enti locali del territorio. Crisi idrica, si parla di 4 milioni e 300 mila euro che sono arrivati in Toscana per fronteggiare questa criticità. Ciò che manca però a nostro avviso è la parola investimenti. Noi non possiamo continuare ad intervenire esclusivamente sotto un profilo emergenziale. Investimenti strutturali, programmazione, sono queste le sfide che attendono la Toscana delle quali si sente poco parlare. Continuiamo a parlare di opere importanti che però sono opere che ormai risalgono nei decenni. Si parla sempre di bilancino. Ecco, il modello bilancino dovrebbe essere un modello che oggi persegue tutta una serie di obiettivi di investimento per la Toscana che però non vediamo. Vediamo invece che si continua a parlare di situazioni contingenti, investimenti in autobotti. Nel 2022 francamente questo è inaccettabile. Per non parlare poi delle perdite del servizio idrico. In realtà noi abbiamo scelto decenni fa di gestire, di far gestire la risorsa idrica a delle società partecipate. Oggi il tema ritorna all'odere del giorno con le multiutiliti. Questo modello di gestione ha le sue criticità perché di fatto gli investimenti non sono stati fatti nel modo adeguato. E investire oggi risorse del PNR facendoli passare come una grande conquista sugli investimenti io credo che denoti invece che nel passato ciò che doveva essere fatto su questo fronte non è stato fatto. Cambiamo argomento. Inserire l'aeroporto di Pisa tra quelli giudicati strategici nel piano nazionale aeroporti. Lo chiede una mozione, primo firmatario Andrea Pieroni del PD, che il Consiglio regionale ha approvato. All'unanimità dei presenti il gruppo del Movimento 5 Stelle non ha partecipato al voto. L'atto di indirizzo era collegato a una interrogazione presentata da Irene Galletti del Movimento 5 Stelle e alla quale ha risposto in aula il Presidente della Regione Eugenio Gianni. Sentiamo anche in questo caso le interviste a partire proprio dal Presidente. Come al solito tanta discussione ma poi abbiamo votato tutti lo stesso ordine del giorno. Mi sembra solo un partito, non l'ha votato, ma la grandissima maggioranza del Consiglio si è riconosciuta nel gioco di squadra con cui dobbiamo sostenere l'aeroporto di Firenze e l'aeroporto di Pisa. La costruzione dell'aerostazione nell'aeroporto di Pisa, una nuova pista che dà più garanzia di sicurezza e compatibilità ambientale per l'aeroporto di Peretola. Il problema è stata l'interpretazione che taluni hanno dato, che poi è girata sulla stampa, sul fatto che l'aeroporto di Pisa non avrebbe avuto riconoscimento adeguato nel piano strategico dei voli approvato dall'Enac a livello nazionale. Ma in realtà se guardiamo bene quel piano vi è l'indicazione dell'aeroporto di Pisa, come quello di Firenze, e se a un certo punto nelle aree strategiche si identificano l'aeroporto, è stato citato quello di Firenze perché è gestito dalla stessa società Toscana Aeroporti che gestisce Pisa e Firenze, quindi è stato un po' considerato quello come aspetto di riferimento. Comunque nel documento che abbiamo provato io sono un fermo sostenitore e chiediamo al Ministro Salvini di inserire fra gli aeroporti strategici sia quello di Firenze Peretola sia quello di Pisa Galilei. Ma è stata una discussione positiva che ha dato un risultato significativo, una mozione approvata all'unanimità che chiede al Presidente della Regione di presentare entro il 21 novembre una specifica osservazione rispetto alla bozza del nuovo piano nazionale degli aeroporti redatta da Enac, laddove si vada a colmare quella che io credo sia una lacuna, anzi una stortura, laddove non si preveda che per quanto riguarda il sistema aeroportuale toscano siano entrambi gli scali, cioè Firenze e Pisa, ad essere considerati strategici. Così è nel piano nazionale degli aeroporti vigente, tra l'altro approvato non molti anni fa, nel 2015, per cui dobbiamo evitare che si lasciano cose non dette o zone grigie. Quindi chiediamo al Presidente Gianni di presentare una osservazione nei termini prescritti affinché si chieda al Ministero e alla direzione degli aeroporti che venga ripristinata la previsione che gli aeroporti strategici della Toscana siano Firenze e Pisa, perché proprio nel 2015 è stata fatta la scelta della fusione delle società, è stato individuato un gestore unico e questa volontà ha determinato che Firenze e Pisa fossero insieme aeroporti strategici della Toscana e dell'Italia centrale. È inaccettabile che a distanza di anni si continuino a prendere in giro i toscani con il balletto degli aeroporti e di questa maggioranza che da una parte nega quello che fa e dall'altra non riesce a fare quello che dice. Ed è inaccettabile che non si sia avuto una risposta a un'interrogazione innanzitutto, dove si chiedeva una cosa chiara. La bozza del piano aeroporti dice che Pisa non è più aeroporto strategico nonostante le promesse di molti anni, mentre Firenze lo è. Fino al 21 novembre c'è la possibilità di presentare delle osservazioni ad ENAC per questo e tutto ciò che ci siamo sentiti dire dal Presidente Gianni è che è stato un errore terminologico e che semplicemente tutti noi non abbiamo capito quello che in realtà voleva dire il piano, solo lui l'aveva capito e noi ci stiamo attaccando in questo momento a questioni di lana caprina legate a Guelfi Ghibellini piuttosto che a un'incomprensione di quelli che sono i testi. Ecco, noi diciamo che i toscani si sono stancati di sentirsi prendere in giro dal Presidente di una Giunta che a distanza di anni, nonostante governi, nonostante sia legittimato da un voto che è stato preso a suo favore e per il quale lui adesso è Presidente, non dica chiaramente quale sarà la sorte degli aeroporti di Pisa e di Firenze. La nostra posizione è che il sistema aeroportuale toscano possa lavorare insieme, in maniera congiunta. Firenze e Pisa sono di fatto uno scalo unico, si è concepite nel contesto europeo, serve rafforzare Firenze, serve fare la nuova pista per rendere più competitivo l'aeroporto del capoluogo, integrarlo sempre di più con Pisa e costruire un sistema aeroportuale toscano che sia in grado di competere a livello nazionale ed internazionale. Noi chiediamo che la Regione Toscana si faccia portavoce nei confronti di ENAC di inserire anche Pisa tra gli aeroporti strategici italiani. Dopodiché la cosa fondamentale sulla quale noi vogliamo delle risposte chiare è che Toscana Aeroporti presenti il cronoprogramma rispetto al piano attuativo del masterplan dell'aeroporto di Pisa. È inutile presentare un masterplan dove si dice che cosa si farà a Pisa se poi non partono i lavori e se non ci viene detto in maniera chiara quando questi lavori devono partire. Noi vorremmo, vogliamo che entro la fine dell'anno venga presentato un cronoprogramma puntuale sull'esecuzione dei lavori per l'aeroporto del Galileo Galilei di Pisa. Tanto si è dibattuto in queste settimane perché il piano nazionale degli aeroporti ha tolto Pisa come aeroporto strategico della Toscana e ha lasciato esclusivamente Firenze. Abbiamo discusso ora una mozione e all'interno della mozione ne abbiamo portato un emendamento dove chiediamo alla Giunta regionale che presenti delle osservazioni al piano nazionale degli aeroporti che riporti Pisa a fianco di Firenze perché noi riteniamo che entrambi gli aeroporti, soltanto in sinergia, insieme, sono strategici per la Toscana e non c'è un aeroporto di serie A o un aeroporto di serie B. È tutto per questo appuntamento con Monitor Consiglio, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata. Grazie.